Don Mario Pasqua, oggi 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, un appuntamento molto sentito per questa comunità. Abbiamo iniziato dal 1 luglio questa preparazione alla festa di quest'anno 2024 e il tema di quest'anno siamo nell'anno della preghiera, Maria maestra e modello di preghiera e ogni giorno con il buongiorno alla Madonna abbiamo pregato sul tema della preghiera. Maria preghiera umile di opera di Dio e c'è stato tutto veramente un cammino fino ad arrivare oggi alla grande festa, momenti di adorazione, momenti di preghiera, momenti anche di condivisione. Sabato abbiamo vissuto un momento di festa all'esterno, ieri con il concerto guidato dal maestro Vincenzo Nocerino. Abbiamo preparato come ogni anno questo incontro con Maria insieme con il suo figlio Gesù. Questa notte, ieri notte la chiesa è stata aperta tutta la notte con il momento di adorazione fino all'alba con il canto delle lodi, il buongiorno alla Madonna e la prima messa alle ore 7. Oggi tante celebrazioni e poi stasera la processione. Sì, la processione dove la Madonna passa per le strade della parrocchia, dove la Madonna fa visita alle famiglie, agli ammalati. E come ho detto all'inizio di questa festa è una giornata di ringraziamento, se ben tutti quanti ricordiamo, proprio l'anno scorso a quest'ora, verso le 11, quello che successe. E la Madonna ancora una volta ha messo la sua mano. E allora vogliamo ringraziare veramente Maria perché ci dò sempre la forza e la forza della preghiera per pregare sempre insieme al suo figlio. Io auguro a tutti, come abbiamo detto in questi giorni, di vivere questo momento di grazia per lodare il Signore insieme con la madre Maria. Maria che è questa maestra e questo modello di preghiera che ci guidi sempre come faro, come speranza e che ci sia più pace in questo mondo.